Ciao ragazzi, oggi voglio parlarvi di una questione veramente importante ed è il fattore stress. Il fattore stress è fondamentale in qualsiasi training venga fatto per la difesa personale. Innanzitutto non voglio sostituirmi a un medico, però possiamo distinguere principalmente due tipi di ormoni, il cortisolo e l'adrenalina. Il cortisolo viene secernito dal nostro corpo a causa di stress prolungati, che sono per esempio una malattia, problemi di lavoro, problemi familiari. L'adrenalina è un ormone che viene secernito per stress immediati, imprevisti, ed è quello che interessa a noi. Concentriamoci quindi sull'adrenalina. L'adrenalina farà aumentare il nostro battito cardiaco, porrà il nostro corpo in uno stato diverso da una condizione normale e cambierà delle nostre performance. Aumenterà la nostra motricità grossolana, che è quella che per esempio ci consente di correre più velocemente o di sollevare un peso o di spingere via un nemico. Insomma, movimenti grossolani. A discapito della motricità fine. La motricità fine è quella motricità di precisione. Immaginiamoci per esempio in una situazione di un pesante incidente automobilistico, mentre stiamo andando al lavoro, o un incendio, o per gli operatori della sicurezza uno scontro a fuoco. Saremo molto abili nel dover correre, nel dover spingere via, nel dover sopravvivere. Saremo in difficoltà nel dover regolare un orologio o comporre un numero telefonico, proprio perché il nostro corpo si prepara a sopravvivere e a non fare lavori di precisione. Quindi questa variazione di performance è assolutamente da considerare nel nostro training con le armi da fuoco. Nello specifico sappiamo bene che le sicure delle nostre armi sono congegni piccoli, pulsanti, levette, così come i pulsanti di sgancio all'interno delle nostre fondine. Tutti movimenti che, se fatti, richiedono una certa precisione. Per cui, quando siamo alla domenica al campo di tiro, mettiamo e togliamo la sicura come niente fosse. Ma vi posso garantire che, colti di sorpresa, in uno scontro a fuoco, essere chiamati a difendersi a partire da 0 a 100 immediatamente, quella maledetta sicura sarà difficile da trovare. Quei pulsanti, quegli sganci sulla fondina saranno difficili da azionare. Perché questo? Ovvio, perché siamo sotto stress. Il nostro corpo ha cambiato le sue performance, si prepara a sopravvivere e, come detto prima, tutto ciò che è piccolo di precisione diventa veramente come Fornox. Proprio per questo motivo gli israeliani non amano lavorare nella condition 1, cioè colpo in canna sicura inserita. La sicura sarà difficile da disattivare al momento dello stress di evento critico, cioè un momento improvviso in cui il mio corpo è chiamato ad attivarsi da 0 a 100. Hanno individuato un sistema, che è quello che mostro io in alcuni video che trovate in Instagram o in Facebook, dove il colpo viene incamerato al momento dell'estrazione. Quindi, quando andiamo al campo di tiro, ricordiamoci sempre, non prepariamo solo la tecnica precisa, il movimento, eccetera, ma inseriamo sempre qualcosa di stressante, perché altrimenti sarò bravissimo nelle tecniche, ma al momento del pericolo rimarrò bloccato perché il mio corpo non sarà stato abituato a gestirlo. Mi raccomando! Ciao ragazzi, il video è finito, ma ci sono tante cose da scoprire ancora sulla difesa personale, per cui iscrivetevi al canale, attivate le notifiche, vi lascio qui i link ai social per vedere come metto in campo quello che vi sto dicendo, ci vediamo al prossimo video, stay safe!